E anche gli All Blacks passano al turno successivo di Coppa di Lega Gli All Blacks ai quarti Qualcuno si domanderebbe ma dove siamo? Intanto diciamo che ho reso È mezzanotte, siamo qui fuori Tu hai inseguito per fare l'intervista, hai ritrovato Comunque, a parte gli scherzi, come è andata la partita? Questo derby, gli Elfish, quando vedono i All Blacks Purtroppo quest'anno è andata male Li abbiamo battito per la seconda volta Però no, loro sono dei benissimi ragazzi Complimenti a loro Cioè se facciamo la somma delle due partite è 14 a 2 14 a 2 Non molto bene Vabbè ma è tutta colpa di Jacopo Perché tutte le partite che... Eh bene, tutte le partite gioca a Yahya molto Cioè ormai è complessa Cioè ci pensavano a 5-2, portavano a tasso Indino a Jacopo, ormai si è accettato che Jacopo è portato a tasso Perché noi abbiamo fatto 7 partite 4 sconfitte Jacopo in campo Potrebbe vittorare che Jacopo era a causa Quindi c'è tutto Però vindo un allievo direi, quasi Vabbè che c'entra un allievo? Eh, due prestazioni di calcini Oggi ha fatto davvero una gran partita Sì, oggi, tutti la gran partita È beggiuto, bellissimo Marzio, Divini, Ioannio Tutti i baroni Dacca, ti mancano Ti mancano questi Oblex così vincenti? Ma completamente Non mi mancano proprio Io c'è i miei Toreros E qui sono una raffreddositiva I miei Toreros che sono Quinti in Serie C Appartengono al mio passato Quinti in Serie C Quarti in Serie C C'è il capitano Capitan Romano qua c'è Vabbè, ora Appartengono al mio passato Ne vado fiero Adesso, quarti di finale Sono molto Comunque Il Porca Il Porca Ma perca Però Tu sei a Castanero Tutti sei a Castanero Ti non viene a Castanので Ti non viene a Castanero si mangia le mani ma sicuro dai comunque tornando alla partita adesso affronterete ai quarti gli olini gli olini che hanno battuto qua i rose ah davidino siamo sotto con sacco prima punta che si ci abbia fatto ballare la samba bella bella ma si vende che ha detto vabbè accardi ha detto che l'essana poteva vendere tutte negli stock che dire ragazzi questi oblex vi piacciono in coppa poi in attacco allora dato che siamo tutti qua chi vince la coppa di letra vabbè 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 chiediamo sì chiediamo sì allora venite al meeting che vi insegniamo a vivere vai vi insegna a vivere ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao